Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale In fuga dopo un furto di rame speronano l'auto della vigilanza privata In curia e degrado alla darsena borghese l'appello di Vincenzina Turiani di Sinistra Unita Al tempo in arrivo forti piogge, vento e neve nelle Marche Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia Benvenuti a questa edizione del nostro Tg Un furto è stato messo a segno la scorsa notte in una ferramenta nella zona dell'ex zuccherificio I malviventi nella fuga hanno speronato l'auto della vigilanza privata Vediamo il servizio di Simona Zonghetti Rubano il rame e poi si danno alla fuga con il bottino speronando l'auto della vigilanza privata Sono stati attimi di tensione quelli vissuti la notte scorsa da una guardia giurata Giunta sul posto dopo aver ricevuto l'allarme dalla centrale operativa È accaduto intorno alle 2.30 nella ferramenta Arturo Mancini in via della Pineta Nella zona dell'ex zuccherificio a Fano I malviventi, si ipotizza 3 o 4, nel giro di 15 minuti hanno arraffato tutto il rame possibile Appena arrivata la guardia in servizio ha notato subito uno dei ladri che stava aprendo il cancello Con il motore manomesso quando dal fianco dello stabile è uscito a gran velocità un camion Iveco Daily Di colore bianco con cassone a sponde alte Il mezzo ha speronato l'auto nella parte anteriore destra facendo scoppiare la gomma I malintenzionati sono così riusciti a darsi alla fuga dirigendosi verso la statale adriatica A quel punto oltre ad uno dei responsabili della ditta sono state avvisate anche le forze dell'ordine Nell'immediato sono intervenute sia le pattuglie dei carabinieri che della polizia In seguito, grazie alla denuncia di furto, si è scoperto che il camion era stato rubato alla ditta centroventilazione SRL Poco distante, sempre nella giornata di oggi Poi l'azienda si stava adoperando per effettuare una stima dei danni Secondo un dipendente, la refurtiva si potrebbe aggirare attorno a 10-15 mila euro Ora, con l'ausilio delle immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso Si cercherà di risalire agli autori del colpo È fuori pericolo la dodicenne di Calcinelli ricoverato all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona Per un grave infiammazione al cervello Negli ultimi due giorni le condizioni di Rosa sono migliorate e presto potrà lasciare la rianimazione Da come si legge nel profilo Facebook del padre, la ragazzina ha fatto grandi progressi Ha mosso bene il braccio e la gamba e ha ripetuto con grande precisione gli ultimi capitoli di storia, geografia e grammatica È stata eseguita l'autopsia di Celso Arduini, il pensionato di 76 anni che aveva perso la vita lunedì scorso a Cannavaccio Dopo un volo di 40 metri in un dirupo con la sua auto Il risponso dell'esame autoptico disposto dalla procura di Urbino ha confermato che l'uomo è morto bruciato vivo dentro la sua vecchia panda È emerso che ha respirato fumo, un segno inequivocabile del fatto che era ancora vivo Quando è esploso l'incendio causato dallo scoppio delle bombole a metano che alimentavano la vettura E ora torniamo a parlare della morte di Manuel Crupi, il ragazzo 23enne deceduto il 31 gennaio del 2012 Nel tentativo di spegnere l'incendio che stava distruggendo il semi interrato della casa in cui viveva a Monbaroccio Dove era stata situata una piantagione di marijuana Ieri mattina il GUP ha rinviato a giudizio l'amico Marco Casanova, 27enne di Pesaro Responsabile secondo la procura della morte di Crupi In quanto quell'impianto era altamente pericoloso e Casanova gestiva la piantagione insieme a Manuel Il prossimo 1 luglio dovrà rispondere davanti al giudice del reato di omicidio colposo Ed ora parliamo della Darsena Borghese Le incuria e degrado non sono i soli problemi di questo pezzo di storia della città di Fano A parlarcene e a denunciare il tutto è Vincenzina Turiani di Sinistra Unita Sentiamo E' mai possibile che nonostante le segnalazioni si continuano a non pulire dopo il taglio dell'erba? Possibile che tutta la sporcizia deve rimanere in bella vista senza preoccuparsi di raccoglierla? Ma un modo diverso non c'è A chiederlo è Vincenzina Turiani di Sinistra Unita che da diverso tempo denuncia lo stato di incuria e degrado della Darsena Borghese Un posto secondo la Turiani che al contrario dovrebbe essere curato e valorizzato Invece lo scenario che si presenta è ben diverso Ci sono rifiuti ovunque tra cui cartacce, pezzi di plastica e pneumatici Addirittura dove una volta c'era il lavatoio utilizzato fino agli anni 60 dalle lavandaie e dalle filandaie Spunta la ruota di una bicicletta In realtà ci racconta è lì da 3-4 anni Insomma uno dei luoghi che potrebbe essere un biglietto da visita per la città E' lasciato completamente all'abbandono La gente è maleducata e non discuto Però una collaborazione, una coordinazione tra la cooperativa che viene a tagliare l'erba E chi comunque deve raccogliere tutto quello che o la maleducazione della gente o il vento stesso Deve portare via perché non è bello vedere un prato tagliato con tutta l'immondizia attorno Voi guardate, fate una carrellata e rendiamoci conto che io credo che non ci voglia tanto avere una collaborazione E' una questione di cominciare, cominciamo a fare Quando vengono a tagliare l'ASE qua viene a pulire Oppure dire a quelli delle cooperative che devono tirare su Ce l'avranno un rastrelle e il vaga prende a casa mia Un altro problema che persiste da tempo è la presenza di ratti E le tane, ben visibili, ne sono la conferma Le tane si vedono e le vedete benissimo anche voi Ma noi le vediamo girare perché ce le ritroviamo anche per la strada Perché le caditoie non sono pulite o non ha sufficienza E quindi i ratti escono E quando non ci sono le persone magari escono, te le ritrovi anche in mezzo alla strada Potrebbero anche entrare in casa? Sì che entrano, perché magari un attimo la porta aperta e beh non va bene La Turiani poi ci ha mostrato la banchina del canale in cui non dovrebbero transitare i mezzi Invece dalle tracce lasciate dal battistrada pare che il divieto non sia rispettato Inoltre ci ha fatto notare che chi non riesce invece ad avere l'accesso sono le persone con disabilità Per non parlare poi dei muri che cadono a pezzi, degli scalini rovinati E delle tavole di legno messe a sostegno del muro Che non ne valorizzano né la bellezza né tantomeno l'importanza storica e culturale Le mura sono rovinate, andrebbero ripristinate, andrebbero riqualificate in qualche modo Una ristrutturazione ben fatta Questo è un reperto storico del 1617 Fatto voluto da Papa Borghese, il primo porto La prima d'Arsena ci sono stati i pescatori, ci sono stati i pesci vendoli, c'erano le lavandaie Era un'attività con i cordai tutti insieme Ripristinare questo sito vorrebbe dare una riqualifica alla città per un lavoro fatto, per una nostra storia Ma è tutto abbandonato, forse sono stati dieci anni di incurie Noi dobbiamo avere cura di ripristinare quello che c'era Il tribunale di Urbino ha assolto Luigi Grassi, 90 anni, dall'accusa di violenza sessuale e tentato omicidio Nell'estate di tre anni fa fu la sua badante rumena a chiamare le forze dell'ordine Dicendo che l'uomo l'aveva minacciata prima verbalmente e poi con un colterlo per costringerla ad avere un rapporto sessuale Nel corso dell'udienza che si è tenuta oggi, entrambe le parti in causa sono state concordi Nel richiedere l'assoluzione dell'uomo a causa delle sue precarie condizioni fisiche L'aziano non riesce a camminare autonomamente Dopo il fatto la donna è tornata in Romania e da due anni risulta irreperibile Ed ora apriamo la pagina del meteo, sono previsti forti pesionamenti nelle prossime ore Per sapere quale sarà l'evoluzione meteorologica sentiamo al telefono il meteorologo Francesco Cangiotti di geometeo.it Allora Cangiotti, quale sarà l'evoluzione nelle prossime ore? Sì, diciamo che proprio in queste ore l'aria fredda di origine artica sta scavancando l'arc alpino E si sta gettando sul Martirrino determinando la formazione di un profondo vortice depressionario Questo vortice depressionario nel corso della serata ed in particolare durante la notte Richiamerà correnti di bora verso il nostro territorio determinando un rapido peggioramento Con rovesci diffusi anche di forte intensità che poi nella giornata di domani tenderanno a concentrarsi maggiormente Sui settori collinari appenninici Quindi segnaliamo appunto il forte vento che potrà raggiungere anche i 70-80 km d'aria lungo il litorale Con mare molto mosso e agitato e le precipitazioni che localmente potranno risultare anche abbondanti Specie in prossimità della dorsale appenninica con nevicate che potranno oscillare tra i 400 e i 600 metri di quota Questo peggioramento poi andrà via via evolvendo nel corso della giornata di venerdì Quando il vortice si sposterà verso sud-est favorendo un graduale miglioramento con schieriti più ampi a partire dalla serata Grazie a Francesco Cangiotti per questo aggiornamento meteorologico Francesco Cangiotti di geometeo.it E allora continuiamo con le notizie e ancora rimaniamo nell'ambito del maltempo Tutti quanti voi vi ricorderete le nevicate copiose del 2012 Al via le procedure per il rimborso danni degli immobili pubblici La giunta regionale delle Marche ha definito i criteri e le modalità per le procedure per accedere ai contributi destinati al ripristino degli immobili pubblici danneggiati dalle eccezionali nevicate del 2012 Saranno disponibili 3 milioni e 391 mila euro ancora non trasferiti dallo Stato la cui assegnazione richiede comunque una graduatoria Gli enti pubblici che avevano segnalato gli immobili compromessi dovranno inviare la richiesta di contributo entro 30 giorni dalla notifica della delibera che la giunta regionale ha approvato nella seduta del 2 marzo E rimaniamo in tema sempre di amministrazioni pubbliche I comuni della provincia di Pesaro e Urbino hanno incassato quasi 900 mila euro in meno nel 2014 rispetto al 2013 dalle multe della Polizia Municipale Si tratta di una flessione di quasi 900 mila euro delle entrate extratributarie che riguardano sanzioni amministrative, ammende e oblazioni E nel giorno della festa della donna, l'8 marzo, prende il via da Pesaro una mostra itinerante Le identità violate, sentiamo di che cosa si tratta La mostra è composta da opere, diciamo che l'80% sono opere inedite relative alle tre fasi, violenza, consapevolezza, rinascita quindi anche per un visitatore meno attento oppure non usuale diciamo alla cultura, all'arte perché magari sembra sempre così lontana in realtà l'arte deve mandare messaggi quindi noi artisti molte volte siamo portati cioè dobbiamo sentirci partecipi di questi messaggi e il messaggio è proprio smuovere le coscienze attraverso il nostro modo di fare arte È un evento itinerante, quindi partiremo l'8 marzo da Pesaro ai musei civici, Palazzo Toschi Mosca numero 29 quindi vi aspettiamo per poi toccare altre sei città italiane dove ho inserito artisti a livello nazionale e internazionale scrittori anche pluripremiati ci saranno relatori, ospiti, video, cortometraggi quindi toccando varie tematiche appunto legate tutte alla violazione dei diritti umani E purtroppo non sarà un 8 marzo da festeggiare quello legato al mondo del lavoro perché nel 2015 per le imprese femminili delle marche c'è una forte riduzione tra il 2013 e il 2014 le aziende dirette da donne sono diminuite di oltre 2.800 unità La doccia fredda arriva dai dati delle imprese registrate alle camere di commercio elaborati da CNA e Confartigianato sempre nel 2014 le imprese maschili sono invece aumentate di circa 1.200 unità E parliamo di cultura e con lo scopo di promuovere i libri e la lettura venerdì prossimo prenderà il via un laboratorio di narrazione e la Mediateca Montanari Organizzato dall'Associazione Letteraria in collaborazione con la Mediateca Montanari all'assessorato alle biblioteche del Comune di Fano prenderà il via un laboratorio di narrazione con gli scrittori Simona Baldelli, Maura Maioli e Alessio Torino Il laboratorio avrà la durata di 20 ore complessive sarà articolato in 5 incontri tematici della durata di 2 ore ciascuno e 3 seminari intensivi con ogni scrittore Anche quest'anno avremo il premio alle giornate di letteraria la sua seconda edizione è già avviato perché siamo in piena fase di lettura con le scuole abbiamo i nostri 9 gruppi di lettori aggueritissimi quest'anno coinvolgendo anche il liceo Raffaello di Urbino quindi circa 600 studenti che leggono i 63 libri in concorso E venerdì che cosa inizierà? Dunque venerdì inizia una delle due iniziative che abbiamo pensato di creare per coinvolgere anche la città in questa fase intermedia tra le giornate dell'ottobre scorso e le giornate che ci saranno nell'ottobre del 2015 Le due iniziative sono una serie di incontri con gli autori a maggio verranno a Fano Benedetta Tobagi Marcello Fois e Laura Pariani alla Mediateca Montanari e poi soprattutto quest'iniziativa che si apre il 6 marzo quindi dopo domani è un laboratorio di narrazione Chi può partecipare? Chiunque sostenga l'associazione letteraria sottoscrivendo il tesseramento annuale di 80 euro Dove si svolgerà? Alla Mediateca Montanari in aula didattica e per ogni informazione quindi il calendario gli appuntamenti il titolo degli incontri è sufficiente andare nel nostro sito www.premioletteraria.com oppure scrivere una mail per informazioni a premioletteraria.gmail.com E rimaniamo sulla pagina della cultura una mostra dedicata al pittore fanese Bruno Radicioni ospitata a Palazzo delle Marche si chiude con un grande successo di visitatori il sindaco di Fano Massimo Seri ha proposto di ospitare la mostra nel Palazzo Comunale di Fano il curatore Lorenzo Radicioni figlio dell'artista scomparso nel 97 ha definito molto positivo il bilancio di questa esperienza e ha confermato l'idea di rendere itinerante l'esposizione E ora spettacolo e il San Costanzo Show ha deciso di ritornare sulle scene vediamo di che cosa si tratta Evento speciale per la festa della donna quello di domenica 8 marzo al Teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo i comici del San Costanzo Show alle ore 17 e alle 21 metteranno in scena il nuovo spettacolo comico intitolato Il Cognome della Rosa e tra una replica e l'altra brinderanno insieme al pubblico nel foyer per festeggiare la festa della donna con una pericena bio Lo spettacolo è stato definito dalla critica un'esplosione di moti di allegria prolungata per due ore e dal pubblico invece esilarante in cui i comici stravolgono i grandi classici della letteratura Per la prima volta al Teatro Tiberini si chiama di San Lorenzo in Campo con un doppio spettacolo alle 5 del pomeriggio e alle 21 e la novità è che tra i due spettacoli sia il pubblico del primo quindi all'uscita che il pubblico del secondo spettacolo prima di vederlo potranno fare una pericena diciamo Invece lo spettacolo come lo definireste? Ah questo non lo so non c'è un aggettivo per definirlo variazioni comico-letterarie siamo ispirati a dei partendo dal nome della Rosa di Umberto Eco e poi siamo passati i Tremoschettieri di Diumà la Divina Commedia di Dante eccetera e affrontiamo a modo nostro i classici della letteratura E ci saranno anche le signore per bene pesaresi? Sì per bene lo dici tu perché la signora Scavoloni e la signora Berlini che ormai sono un must con le loro sedie che vagano nel palco e sono ormai in disgrazia Per chi invece non potesse essere presente l'8 marzo? Ci vediamo la settimana dopo venerdì 13 marzo al Teatro Sperimentale di Pesaro Vi aspettiamo a teatro la biglietteria è sempre all'edicola Pagnoni venite numerosi anzi non c'è neanche bisogno di dirlo siete sempre tantissimi grazie ciao a presto Bene questa era l'ultima notizia per questa edizione di Occhio alla Notizia grazie per essere stati in nostra compagnia dopo di noi c'è Guarda chi c'è buona serata a tutti voi grazie grazie